E' qualche commento di Coviello, Coviello parti con il favore dei pronostici dopo aver vinto la gara dello scorso anno, un percorso bellissimo, che cosa vi aspetta? Aspetteremo di fare voglio, più di questo. La concorrenza si presenta molto agguerrita. Il forum dei Trulli si presenta come il favorito anche per questa edizione della gara, dicevamo, una gara che punta ai seguiti.